Sì, è nella spera! RPG, nemico sopra l'autobus! Lancia una maschettrice! NEMICO, ore 12! NEMICI A SINISTRA! Granate a microonde, via! Granate intelligente! Vamo a terra! Ciacchini, al balcone! Attiva l'overdrap! Trafico di merda! Vecco nigeriano! Via via! RPC! Via della sfera! RPG, nemico sopra l'autobus! Lancia una marcatrice! Granato! Granate a microonde, via! Ciacchini, al balcone! Attiva l'overdrap! Granate a microonde, via! Granate a microonde, via! Granate a microonde, via un pozzo! Granate a microonde Via da microonde, via! Go! Grazie aatelli il cagolio! keiten sueld такую Inclájate lo primero! Grazie per la visione!